Se stanno ancora in prassa a Pino Piras all'Algheveglia la presentazione della nuova laurea in design dell'Università del Sassar, Facoltà di Architettura dell'Alghe. La giunara a organizzare alla fine del primo anno di attività presenta diverse obras e video. Una giunara che è stata una bella opportunità per i studenti che hanno anche i suoi dias che stanno in fulmante da molti diversi scorsi, in particolare anche gli ades design, hanno dichiarato i laboratori service design dei laboratori in movimento della Facoltà del Garese.